Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi farò vedere come seminare il seme dell'anguria. Iniziamo subito a riempire nel contenitore un po' di terra. Dopo aver effettuato questo passaggio, prendiamo i nostri semi. Le inseriamo a riempire sul terreno. Filiamo con un dito schiacciandoli e ricopriamo un po'. Dopo aver effettuato questo passaggio, iniziamo a inerferlo con un po' d'acqua. Mi raccomando, non troppa acqua. Una volta fatto, possiamo iniziare a preparare l'altro vasetto. Per seminare poi il melone. Allora, mettiamo sempre un po' di terra nel nostro contenitore. Un po' di terra. Come ho fatto, prendiamo i nostri semi. Allora, naturalmente io ho i semi del melone giallo, ma se voi avete anche un altro tipo di melone, sono sempre gli stessi. bastano anche due semi, in caso se uno o due non dovesse germogliare. Iniziamo a metterli nel terreno, chiudiamoli con un po' di terra e innaffiamo. Il passaggio è sempre lo stesso. Una volta fatto, vi ricordo che tocca mettere i nostri vasetti nella zona dove c'è il sole, così fanno in fretta germogliare. Più o meno nel periodo estivo e primaverile ci vogliono almeno cinque giorni. Grazie per aver visto il video. Ci vediamo al prossimo puntata. Ciao! 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 Grazie.